Il direttore generale della Astra di Pescara, Vero Michitelli, risponde in maniera dura alle polemiche sollevate da chi vuole fare campagne elettorali su di noi, dice, distorcendo la realtà sulla vicenda delle risonanze magnetiche. In conferenza stampa, tra gli altri, il direttore generale risponde a chi ha alzato il polverone parlando di disagio per i pazienti a causa delle due risonanze magnetiche fuori uso all'ospedale di Pescara e con tempi di attesa lunghissimi. Con tanto di video, il DG ha precisato. Il motivo di fare di questa conferenza stampa è quello di fare chiarezza su un tema che è stato oggetto di polemiche e anche di confusione. Noi abbiamo installato nel presidio ospedaliero di Pescara una risonanza a tre Tesla, una macchina ad alta tecnologia, ad alto campo. Abbiamo alzato il campo magnetico, stiamo facendo le prove di funzionamento. Il 27, il 28 e il 29 gennaio attiviamo i corsi formativi per l'utilizzo di questa nuova tecnologia da parte del personale e a gennaio la macchina sarà operativa. Noi abbiamo avuto un fermo macchina nella vecchia risonanza da un Tesla e mezzo, ma era una macchina obsoleta che già funzionava in modo ridotto. Per far fronte a questo periodo di disagio, noi ci siamo coordinati con la casa di cura Pierangeli, dove lì venivano assistiti i pazienti interni. E la risonanza di popoli serviva i malati in dei hospital e i pazienti esterni. Nel frattempo siamo in procinto di installare una nuova risonanza da un Tesla e mezzo, finanziata con i fondi del PNRR. Mentre procederanno i lavori per realizzarla, sarà sostituita momentaneamente da un mezzo mobile, inizialmente per tre mesi.